Siamo con l'uomo amministratore delegato dell'Ascoli Calcio Un bel pomeriggio, di festa si parte con grande entusiasmo L'entusiasmo è quello delle belle occasioni, delle belle cose che iniziano Dei bei progetti che partono, quindi lo spirito è quello giusto Lo spirito è quello di una festa, è di un sogno, è di qualcosa che si sta avverando e che si avverà Abbiamo percepito proprio in questa prima settimana che c'è tanta energia nella nuova proprietà C'è tanta energia in Massimo Pulcinelli, la esterna in tutti i modi, anche sui social C'è voglia di far bene, il lavoro non manca, siamo in ritardo L'hanno detto anche i direttori nella conferenza stampa dell'altro giorno Però c'è voglia di tornare ad essere tutti uniti La voglia è tanta, la voglia di lavorare, di mettersi a disposizione di questa società, di questa città è tantissima La voglia che mette il Presidente in ogni cosa, in ogni suo progetto, l'avete vista voi in questi giorni E' anche vero il fatto che anche lo staff che abbiamo trovato qui, la disponibilità della gente Ci hanno dato quell'ultimo ricarico a far sì che questo ritardo con cui siamo partiti Tenderemo a corbarlo nel più breve tempo possibile Sia in termini di lavoro, che in termini di squadra, che in termini di impegno naturalmente Nello specifico, quale sarà il suo ruolo qui nell'Ascoli e quanto tempo sarà in maniera operativa qui in città? Allora, partecipando all'operazione che ha portato l'Ascoli, il grembo di quello che è la famiglia Brigofer Sarò il nuovo amministratore delegato di questa società Il mio impegno sarà massimo per questa società, non parliamo di tempo, non parliamo di situazioni Quello che darò sarà il massimo di me stesso, come lo do quando lavoro per la Brigofer Il mio impegno sarà massimo sia in termini di tempo che di presenza qui nella città Ancora molto presto, ma ai tifosi cosa possiamo promettere? Perché hanno voglia di un Ascoli vincente, di un Ascoli che faccia divertire Come ha detto il Presidente Porcinelli nella prima intervista che ha fatto L'ambizione è tanta, noi siamo delle persone a cui piace vincere, come a tutti quanti Vincere vuol dire impegnarsi, dare il massimo, è quello che chiediamo sia ai nostri giocatori che alla città di Ascoli E' una frase che faccio mia, ha dato il Presidente, Ascoli e la città di Ascoli e la squadra di Ascoli Sono in tutt'uno e saranno per sempre, quello che devono essere è nei palcoscenici che meritano Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti